Si sono svegliati sotto questo cielo dalle mille sfumature di arancione questo sabato mattina i residenti di Lione in Francia. C'è chi ha pensato a un grosso incendio, chi all'inquinamento, chi addirittura all'apocalisse. Invece si trattava semplicemente di polvere del Sahara, trasportata dalle correnti umide provenienti da sud che stanno colpendo l'Europa. Lo ha mostrato lo scienziato di Copernicus Mark Perrington attraverso un tweet. Il carico di sabbia proveniente dal deserto africano non ha ricoperto solo il sud-est della Francia. Le immagini che state vedendo ora infatti arrivano dalle piste da sci svizzere ingiallite dalla polvere. Uno spettacolo inusuale per gli sciatori in cerca del bianco candore della neve anche ad Andorra.